tivo carnivoro oggi parliamo di bromelie che neo neo regeli e che sono delle bromelie veramente belle dai colori pazzeschi molto resistenti fra l'altro perché già da la primavera che sto coltivando alcune di queste bellissime piante ciao angelo ciao benvenuti a tutti e poi parliamo delle tillansie che sono piante praticamente prive di radici e vivono dell'umidità che che riescono a catturare con le loro foglie che hanno questa leggera peluria e prevedono fanno radici però raccolgono un po l'acqua poi parleremo un po di anche del natale che sta arrivando e anche magari qualche regalino di natale che potete farvi regalare dai vostri cari quindi parlerò di questo soprattutto nella prima parte del video quindi avete il tempo per invitare a vedere su youtube anche i vostri parenti più vicini in modo che parlerò dei pensieri di natale riguardanti le piante carnivore e prettamente il giardino carnivoro cosa vi proporrà per questo natale allora è praticamente parlando di questo natale intanto voglio ringraziare la martina che è già arrivato un regalino di natale ciao ragazzi intanto vi saluto alla grande facciamo un cin poi parto a chiacchierare cin ciao da tutta italia come state fa freddo è qui ha nevicato l'altro giorno è stata bellissima lotto ha proprio nevicato è stato bellissimo ora si sta un po sciogliendo comunque una nevicata un po in anticipo perché non sempre nevica però questa volta è arrivata vedete dietro che ho già messo una tillanzia usneoides o che è una varietà che scende praticamente dai rami degli alberi con queste trecce molto fitte poi ne parliamo e si fa freddo si sto leggendo anche i vostri commenti va bene ragazzi ci sta è inutile dirlo io sono in manichette corte ma solo perché ho la maglietta più bella del mondo quanto mi fa morire questa maglietta ecco questo potrebbe essere un bel regalo di natale e poi parlando ecco volevo ringraziare la martina perché mi è già arrivato un regalo spettacolare introvabile un po kitsch se vogliamo però è veramente raro ovvero babbo natale dentro la serra ragazzi dov'è che la trovate questa ora qua ci scriverò giardino carnivoro guardate babbo natale roteante e con musichetta ragazzi doppia funzione entriamo in atmosfera natalizia fa morire guardate ho già già modificato il tutto però il babbo dentro alla serra introvabile con led bellissimo ora farò la mia porca figura con chi verrà a trovarmi a casa ora lo mettiamo in modalità silenziosa però il babbo che gira ecco la martina quando l'ha visto detto questo è andrea glielo regaliamo quindi saluto martina giorgio tutti ciao grazie mille è stato molto gradito bene parlando di di natale allora ecco io dicevo la maglie le magliette sono andate veramente a ruba le ho rifatte stampare sono veramente bellissime anche le tazze ne ho fatte stampare parecchie perché sono andate via molto bene vi sono piaciute quindi anche adesso d'inverno far colazione con una bella tazza marchiata giardino carnivoro con le darvingtonie bellissime per queste riguardo ringrazio sempre alessandro della ciurma dei carnivori un grande sempre fatte da alessandro io ho fatto una nuova diciamo categoria nel sito riguardando dei gadget omaggio che potete scegliere ok ecco come regalo sempre parlando i regali ci sono le gift card perché tanti mi chiedono magari cosa potrei regalare al mio ragazzo alla mia ragazza che è appassionata io dico regalato una gift card vi arriva un codice sconto e ogni il festeggiato può scegliere la pianta che gli manca perché andare a capire cosa manca di una collezione è veramente difficile infatti non è neanche bello regalare doppioni poi se qualcuno ha intenzione di fare dei dei regali o magari regalare anche un semplice tris carnivoro ecco una cosa che ci tengo a dire è che alla fine dell'ordine ma riscrivere è un regalo allora soprattutto in questo periodo freddo selezionerò magari le piante più belle da ricevere magari una seracenia con gli ascidi o una dionea ancora con delle belle foglie e lo stesso vale per la drosera bene poi ecco parlando della sezione free gadget che sarebbe i calendari allora se è un nuovo cliente tendenzialmente lo metto già dentro il calendario e qualche figurina però sto rifacendo stampare le vecchie figurine ora stanno arrivando arriveranno un po tutte per essere arrivata la utriculari areniformis e la mitica darlingtonia californica sempre disegni di alessandro piccione ecco queste ora arriveranno anche tutte le altre entro pochi giorni quindi le metterò disponibili e potete sceglierle di io ve le aggiungerò gratuitamente all'ordine se vedo questa richiesta dentro all'ordine che quindi queste sono belle figurine da no calendari ne ho ancora molti stavo leggendo io penso che fino a fine gennaio ne avrò ecco come aggiornamenti cosa farò allora il periodo chiaramente non è dei migliori per proporre tantissime piante però anche per fare qualche bel regalo di natale a qualche amico o comunque anche al partner via dicendo perché i regali fidatevi ne fioccano parecchi soprattutto sotto natale io ho deciso che spedirò fino alla settimana di natale poi farò una pausa di due settimane cosa ci sarà questa domenica ecco questa domenica riaggiornerò lo shop se ci riesco verrete avvisati perché sabato un po di impegni però domani andrò a prendere un carico che ho fatto dall'olanda ok di piante esempio ne pentes ok in basket se non vado errato e se me li hanno consegnati sarà la classica ventrata la gaia la bloody mary la dark secret mi sembra di aver preso queste in basket molto grandi belle sceniche ciao a tutti ragazzi facciamo un altro cin perché siete molti di più adesso c'è qualche ritardatario niente parlavo dell'aggiornamento in teoria di domenica lunedì perché la prossima settimana una settimana in cui vorrei dedicarmi alle spedizioni le ultime per queste di natale e anche quella successiva però preferirei farle già la prossima perché poi sappiamo come col black friday che ci sono i corrieri sovraccarichi quindi l'aggiornamento riguarderà le tilla le tillansie le promelie ok che ora dopo andremo a parlare della coltivazione anche delle varie dei vari tipi di queste promelie ce ne sono tantissime hanno dei nomi pazzeschi infatti devo inserirmi un altro microchip qui perché hanno dei nomi pazzeschi ce ne sono veramente tante varietà quindi aggiungerò tutte queste promelie e e le tillansie ok come nuovo articolo in più troverete tutte piante belle diciamo ancora molto in forma delle serie di produzione olandese ok ne ho fatto una bella scorta in modo che per tutte le festività ci siano queste piante sono piante abbastanza conosciute abbastanza comuni però comunque di bella taglia anche se adesso un periodo un po freddo preso anche delle dione ho preso anche delle drosere in modo da avere qualcosa anche se volete fare un regalo delle piante un po accettabili o comunque molto belle per questa stagione fredda ok quindi l'aggiornamento sarà riferito a questo allora le piante sto leggendo ciao in caso si possono ritirare in serra da me sì certo fate l'ordine con bonifico e poi mi scrivete su whatsapp che venite a ritirarle in serra così intanto vi prenotate le piante ok quindi adesso abbiamo parlato un po di natale di questo aggiornamento poi alla vigilia di natale pensavo giusto per rompere le scatole anche perché sono babbo natale in serra ragazzi questa spacca e alla vigilia volevo riaggiornare con le saracenie perché in queste due settimane oltre che spedire vorrei comunque preparare per farvi una specie di regalo di natale preparare un po di saracenie chiaro che non sono tutte saranno però una punta dell'iceberg ok perché il tutto il grosso delle divisione le faccio proprio nel periodo durante chiamiamo le ferie o comunque colgo i giorni in cui nella serra si sta anche bene come temperature per continuare a dividere io penso metà fine gennaio ci sarà la totalità delle saracenie disponibili per quest'anno poi non nego che potrebbero esserci anche neanche a febbraio però come sapete io divido tutte le piante le preparo già tutte in vaso con i cartellini e poi riaggiorno lo shop ok quindi vi arriveranno tutte piante senza scidi già lavate riguardo i cefalotus che sto leggendo allora io potrei anche avere qualcosina però volevo proporle tutti verso aprile maggio ok ho fatto delle talee ora radicato volevo mettere in vasetto cioè proporvi delle piante già un po assestate ok poi mi scrivete le surprise le surprise fortunatamente le ho finite ne ho date via veramente tante e insomma ne avevo un bel bancaletto di surprise spero che vi siano cresciute delle belle piante ma soprattutto quest'anno saranno con la prossimo anno saranno veramente grandi e vedrete il potenziale delle surprise prossimo anno preparerò altre altre cose altre proposte nuove non proprio surprise però tanti sidling di serracenia e proporrò dei vasi di vasi un po più grandi per questo è un discorso che riguarda il prossimo anno ragazzi io direi di affrontare l'argomento di questa sera che sono queste bromelie che ho già avuto modo di coltivare quest'anno in serra quindi ho già un po capito di cosa hanno bisogno vi posso assicurare che sono bellissime ma oltre che bellissime sono anche facilissime da coltivare sono delle ottime compagne di terrari per se avete un terrario fatto con le carnivore in quanto gradiscono molto l'umidità però il terriccio deve essere piuttosto aereo ok sono delle piante che crescono epifite ovvero aggrappate spesso a dei legni a delle fessure degli alberi ok quindi non cercano proprio un terriccio dove radicare infatti le radici si ne fanno ma sono più per aggrappare per aggrapparsi e fare magari nuove plantole allora il terriccio con cui ho avuto miglior successo è composto che quello con cui anche vi spedirò queste bromelie ora dopo andiamo a vedere i colori regalati sono pazzesche sono tutte uguali come coltivazione ovvero gradiscono il sole diretto ma non tutto il giorno va benissimo anche un sole filtrato comunque se prendono qualche ora di sole magari non quelle più roventi d'estate stanno benissimo chi è venuto anche all'open day ha visto dove le tengo magari in qualche video si vedono le tengo con un ombreggiante 50 per cento insieme alle nepenthes ok quindi ma riprendono il sole diretto 23 ore al mattino poi c'è questo filtraggio leggero e poi al pomeriggio ricominciano a ricevere magari verso un tardi pomeriggio il sole della sera quindi quello un po più tranquillo hanno una struttura molto resistente della foglia soprattutto le piante adulte diventano hanno una foglia con quasi spinose lateralmente e man mano che crescono vedete che che colori che fanno ad esempio una pianta giovane può avere dei colori diversi da una pianta adulta dopo vi mostrerò proprio come una pianta che cresce alla base quindi una pianta nuova rispetto alla pianta madre come colorazione anzi ve la mostro subito allora questa è una pianta che ho tenuto quest'anno in serra prima te le ho coltivate non avendo ancora tanta esperienza in spagno vivo ovvero ho messo dello spagna a fibra lunga sotto messo diciamo questo spagna è diventato tutto marrone perché non riceveva luce mentre lo sfagno sopra restava verde però non lo tenevo messo in acqua diciamo andavo a bagnare ogni due tre giorni o anche ogni sera dipende perché era comunque vicino alle repentes quindi ogni tanto dava una bella bagnata è chiaro che come acqua si capisce che non hanno la richiesta delle piante carnivore perché quando le vedrete io ora ve le spedisco in questi vasi con questo mix ecco mix molto leggero che è poca torba molta perlite e spagno disidratato e corteccia che è corteccia e perlite torbano messo proprio un po ma è solo perché magari faccia un po tenga un po tutto più compatto perché altrimenti è un po troppo tutto aereo comunque il terriccio deve essere trenante mantenere l'umidità così le radici e anche la base di questa pianta non marcisce ecco questa è una pianta che ho coltivato io quest'estate da cui ho staccato questa vedete la differenza di colore questa è giovane questa adulta ecco l'infiorescenza ora non si vede ma è proprio qui dentro diciamo non è particolarmente bella però vedrete questo cerchio con po di una peluria è molto basso il fiore con lì chi è più esperto potrebbe pensare un eventuale ibridazione o incrocio con altre bromelie però siamo sul livello super seian quindi io sto solo spiegandovi come coltivarle come farle crescere al meglio ecco questa è una pianta da cui sono riuscito a già staccare questa quando lei produce il fiore spesso da sotto comincia a fare nuove piante che si possono tranquillamente staccare e posare anche se una radici in un nuovo contenitore o lasciare aggrappata alla pianta madre quindi ecco questa è la differenza quindi io ho fatto le foto alle piante però è chiaro che magari una pianta giovane potrà assumere poi delle colorazioni diverse ma tendenzialmente ancora più belle di quelle che le avete ricevute ok questo ad esempio si chiama neoregelia rio grande ok con i nomi poi li troverete nello shop ho fatto le foto a tutte ce ne sono mi piacciono molto io vado un po pazzo per quelle variegate ragazzi devo dire ognuno ai suoi gusti questa è la power ball ok il centro diventa veramente molto rosso molto violaceo queste piante ecco più che dar acqua da sotto gradiscono molto delle piogge soprattutto in estate più caldo fa più si può andare a bagnare a pioggia formano dei pozzetti come abbiamo visto nelle nostre classiche brocchinie ok sembra molto come coltivazione quella della brocchina o della catopsis anzi starei più quasi sulla catopsis che è una epifita al massimo livello e poi vi vado a mostrare una pianta quella che secondo me sembra proprio di più una catopsis però come colorazione molto più forte questa si chiama briesea gigante a nova mini che questa sembra proprio una catopsis berteroniana resistono anche a brevi momenti di siccità allora le vedrete che un po cominciano a seccarsi quasi però appena riceverà una bagnata d'acqua ripartirà vedrete proprio che la struttura della foglia ritornerà ben idratata sto leggendo anche i vostri commenti perché siete anche esperti dopo la fioritura muoiono è vero allora quindi almeno un pollone bene lasciando esatto infatti come molte bromelie che avevo visto io ad esempio le mie hanno fiorito però io non la vedo morire che sarebbe questa muore però parte spesso ecco questi polloni basali che danno origine alle piante laterali che quindi questa se deve morire vediamo quando morirà io le sto tenendo adesso le ottenute per qualche settimana direi fino a inizio dicembre quasi la settimana fino al 20 novembre circa in serra anche se faceva molto freddo però ho visto che tengono botta anche con minime di quattro gradi però vi consiglio di tenerle dai dieci gradi in su più freddo fa anche ascoltando il consiglio di qualche amico mi diceva di togliere l'acqua dai pozzetti altrimenti la richiesta d'acqua è sicuramente minore quando fa freddo però quest'acqua nei pozzetti con il gelo rischia di rovinare la pianta quindi se per caso avete intenzione di farle passare l'inverno piuttosto al freddo ovvero sotto i dieci gradi togli togliete assolutamente l'acqua io le tengo da 11 gradi in su da 11 a 18 chiaro che in terrario non avete questi problemi comunque ecco l'importante è non dare troppa acqua a queste piante si può dare nei mesi veramente caldo un po di più però quando arriva l'inverno o si tiene in casa dietro una finestra ecco riduciamo molto l'acqua perché è una pianta veramente che ha poca richiesta d'acqua soprattutto nei mesi invernali mentre l'estate se ne può andare un po di più a pioggia e comincerà a fare le nuove piante i nuovi stoloni ok ora vi mostrerò qualche pianta ecco questa è un'altra varietà neo regia covaladon red bellissima poi nel sito chiaramente vedrete ecco questa è la taglia non sono tutte grandi così però per chi ha spazio questa può essere una bellissima pianta d'appartamento però anche una pianta da terraria soprattutto per chi ha terrari abbastanza grandi poi ci sono varietà un po più piccole ecco ora andiamo a livello top quelle che io adoro che però sono sempre le più rare le più costose però diciamo le varietà un po variegate sono spettacolari guardate che bella questa 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 ragazzi fidatevi dal vivo è bellissima ok questo si chiama neoregelia goccia goccia ok questa è una variegata poi andiamo su queste leopardate sempre stupende varie taglie questa è la guacamole ecco ve la mostro grande come la guacamole vediamo se questa eccola questa diventa come questa vedete come cambia che la tinta stessa pianta giovani forma giovane forma adulta chiaramente coltivata ecco questa è una delle un'altra che ho avuto quest'anno in serra vedete che ha già fatto un'altra pianta laterale molto generose ecco quindi ve le rimostro un po quelle variegate poi andiamo che questa è bellissima che sto messo la foto nei social che l'avete vista la prima foto la taglia media taglia adulta sono bellissime ragazzi ok è infatti io stavo pensando che al terrario per dare anche un bel punto di colore secondo me anche perché sono talmente facili ragazzi capo un po vi innamorate perché la cura veramente al minimo forse l'errore più grave dare troppa acqua queste piante vedete qui c'è lo spagno disidratato appena umido con questo bark un po di perlite e una spolveratina di torba bella questa questa è la mini tiger che ce l'ho in due taglie diverse questa è la taglia diciamo grande poi la taglia un po più piccola che è qui un'altra variegata battle cat and dei nomi pazzeschi battaglia di gatto ecco ora ve ne mostro qualcun'altra che ho qui è questa è quella che un'altra che ho coltivata che ho coltivato quest'anno in serra qui ho messo l'utricularia un bolti perché questa utricularia vive spesso nei pozzetti delle brocchine io l'ho messo proprio all'interno di della pozza che aveva formato questa bromeliacea quindi la troverete tutte col nome di neorelegia da neo neo re gelia ecco un'altra invece varietà sempre similare però un'altra famiglia è la bilbergia ok questa ringrazio sempre la martina che me l'ha ceduta quest'estate guarda martina cosa ha fatto durante questa stagione fatto una nuova cuccioletta guardate che colori ecco questa si chiama strawberry però la mia personale e poi c'è un'altra famosissima che si chiama alleluia bella taglia di queste non sono due disponibili una piccola una così però questo diciamo è stato un po' un primo carico di prova poi in futuro vedremo vedremo se se piacciono magari riesco a spillare anche un prezzo un po' migliore quindi poi ricordatevi sempre che nello shop avete questo sconto di 10 euro è questa bella sì ne ho un'altra in serra che ho avuto sempre da questa martina che mi ha introdotto alle queste bromeliace a un colore proprio diverso avendo passato l'estate in serra questa diciamo si sta ancora un po' aprendo comunque non è una bromelia di quelle che si apre come questa tipologia va più su verso l'alto e questa è questa spettacolare sta un po più rigida come struttura ma dei colori e soprattutto quando andate a bagnarle vedete che la foglia si bagna questa peluria scompare delle tinte incredibili bene poi vi mostro altre forme ecco questa è forse sembra quasi più una pianta d'appartamento però è veramente molto bello questo bordo bianco che presenta ed è questa è un'altra pianta nata anche questa l'ho tenuta in serra quest'estate ora si rilassa nella serra un po più fresca un po più fresca sugli 11 gradi di notte questo è un pezzo forte questa è una di quelle che io adoro perché adoro il nero in genere e questa è veramente nera purtroppo ne ho poche però ne prenderò altre guardate che bella questa fa un contrasto il nero e il verde veramente spettacolare bene qua abbiamo mostrato un po le principali ecco questa un'altra forma sempre molto simile a quella di prima con la foglia più larga però che è molto folta quindi le taglie vedrete che anche nel sito troverete delle foglie appreso cioè le prendo in mano in modo che capite la taglia effettiva di queste piante perché a volte le foto possono ingannare esempio questa è gigante ok altre magari sono un po più piccole poi vediamo cosa di bello poi ho una forma completamente viola anche questa è molto bella allora diciamo che durante questo mese invernale volevo dirvelo allora che non spedirò a parte che devo dividere le serracenie ma se fa freddo non mi vede la serra perché farà veramente freddo paura allora comincerò ad allestire questo mega terrario che volevo farlo a tema di un biotopo te pui ovvero un'ambientazione proprio similare diciamo per quanto più possibile ai te pui dove vivono le lianfore ho già selezionato le mie lianfore anche loro hanno passato l'estate insieme a me in più ho aggiunto due tre varietà nuove di lianfore qualche utricularia qualche drosera tipica dei te pui e purtroppo mi piaceva anche aggiungere queste so che magari non vivono proprio la comunque proverò informarmi se c'è qualche varietà che vive la sicuramente su questo terrario metterò tutte le brocchine varie ectioide saccuminata e la ridutta che sono un classico e basta bene ora ve le ho spiegate se avete domande magari dopo ne parliamo però sono veramente facili vedete il terriccio questo mix molto arieggiato non ha bisogno di vasi grandi perché come ho detto le radici servono solo da grappo quando arriveranno sicuramente non le troverete con tantissime radici perché ne hanno tre quattro corte giusto per aggrapparsi tenetele lì e vedete che comunque in un anno si triplicherà quasi la pianta ma soprattutto con dei getti nuovi laterali quindi pianta poco esigente veramente spettacolare ok spero che vi piaccia come novità del garden design questa veramente una pianta che non si trova dappertutto anzi è diventata abbastanza ricercata e sono tra l'altro molto facile ecco poi un'altra pianta che ho voluto proporvi che è sempre una pianta che può essere posizionata in un terrario stile natura perché una pianta aerea fa poche radici può essere appesa su una retina o su qualche anfratto di qualche roccia soprattutto nei terrari stile natura ve la presento allora l'attillanzia ok questa si chiama usneoides ed è un attillanzia che cresce proprio non so se avete visto magari anche i film fateci caso anche su giango mi sembra ci sia poi vedete queste piante del mississipio vi ricendo vedete queste da questi alberi che vengono giù tutte queste tillansie ora non sono assolutamente esperto però diciamo che sicuramente una varietà di tillansia se non è questa usneoides è una molto simile comunque le tillansie non ricevono l'acqua dalle radici non si aggrappano con radici bensì vivono aggrappate a dei supporti che può essere la corteccia di un albero o un ramo in se stesso e assorbono l'umidità la rugiada l'acqua dalle foglie direttamente questa è la xerografica che è una delle più grandi in assoluto ecco allora poi vi mostro altre varietà che ho prese non tantissime perché adoro molto di più diciamo queste bromelie per la gestione chiaro che le tillansie sono comunque delle piante assolutamente particolari detto preso questa è la scaposa che vedete ha proprio questa peluria molto bianca assoluto nella base che sono piante che io spedirò proprio così a volte in carta di giornale modo che non si rovinino e poi le potete posizionare dove avete pensato poi io adoro molto il rosso allora ho preso la jonanta che mi piace questa se ben illuminata diventa rosa ma quasi rossa la varietà rubra oppure la jonanta jonanta che sono piccolina poi anche nel sito vedrete la taglia sono piantine non molto costose si possono anche avere in collezione molte più piante non occupano tanto spazio è chiaro che una pianta non velocissima nella crescita poi questa è l'albida ok molto bianca da questo deriva un po il nome ecco poi questa bellissima che mi piace perché colorata di viola anche se forse non si vede però è molto ciuffosa diciamo molto viola e questa qui si chiama fucsi gracilis forma gracilis a questa sembra una pignetta con questi bei filetti molto molto fini ecco come mantenere bene una till ansia allora io non sono sicuramente il massimo esperto quindi mi sono informato perché spesso non so se aspettate che bevo un goccio per una sete questa sera praticamente sono un po informato come bagnare bene queste till ansia ci sono due metodi allora se sono cini ragazzi scusatevi e allora se la pianta è posizionata libera e avete modo di prenderla come consiglio è scritto proprio di bagnare per un paio di minuti dentro un recipiente dove c'è acqua in modo che tutta questa pelluria esterna si bagni poi si estrae la till ansia si lascia sgocciolare e praticamente poi si può riporre nel suo posto prima che si va a bagnare completamente la pianta poi si mette mari a testa in giù e si bagna altro metodo vaporizzare spesso è chiaro che più alta è la temperatura più va vaporizzata ecco l'importante per le till ansie per non farle soffrire questa sempre delle nozioni che ho letto per voi per coltivarle correttamente odiano ristagno d'acqua a differenza delle bromelie che invece quasi carpiscono questa umidità dai pozzetti che si formano ecco le till ansie sarebbe da evitare quanto più l'acqua ferma in questi punti nelle ascelle per quello consigliano bagnare maria testa in giù o shakerare un po in modo che l'acqua in eccesso vada via mentre vaporizzando si riesce a dare il giusto equilibrio d'acqua secondo me per queste piante chiaro che d'estate e bevo hanno una richiesta maggiore ecco uno dei pregi di questa pianta è che è quasi una vera e propria pianta d'appartamento diciamo che non adorano sole diretto mentre le bromelie due tre ore quattro cinque magari non le ore più calde lo tollerno eccome fanno dei colori pazzeschi mentre queste piante sono proprio da penombra ok potete tenerle fuori d'estate però all'ombra comunque zona molto luminosa ma mai sole diretto ed ecco quando ci saranno le temperature più alte e più luce andrà a bagnare andranno bagnate sempre di più ok ecco diciamo chiamiamole un po come sto leggendo le tillanze stanno bene con l'orchidea esatto cioè molta luce ma non diretta e anche temperatura abbastanza fresca ok fino ai 10 gradi e forse anche meno qualcuna se la cava bene però è proprio anche una questione di dosaggio d'acqua ci serve un po una sensibilità nel dosare l'acqua ad esempio questo snow it is una bella vaporizzazione soprattutto nei mesi caldi e quando c'è più sole quando si riportano in casa chiaramente teniamo le distante al termosifone perché le va a disidratare ecco in casa bisogna ridurre ancora di più se d'estate diamo acqua ogni due settimane in inverno va bene anche una volta al mese e possono anche essere concimate con un concime per orchidee molto diluite hanno una crescita lenta soprattutto in casa quando magari si portano fuori con temperature maggiori con una luminosità maggiore le tillanze crescono un po più velocemente bene questo è quello che vi so dire perché non sono sicuramente un burro delle tillanze neanche delle bromelie però avendole coltivate qualcosa posso dirlo e quindi vi ho portato all'interno dello shop queste piante che sono sicuramente ottime per decorare un terrario ma anche come piante d'appartamento ecco sono piante secondo me entrambe poco esigenti hanno una collocazione leggermente diverso avvero bromelie magari toglie un po più acqua anche se stiamo parlando di poca acqua in generale gradiscono molto più la luce le bromelie mentre la tillanze è una pianta quasi non dico da dimenticare però ogni tanto gli si dà una bella bagnata sulle foglie e si arricchisce d'acqua e prosegue con la sua crescita bene ragazzi saluto andrea pigliamosche ciao bene ragazzi allora se avete qualche dubbio potete pure chiedermi poi domani andrò a ritirare queste piante dall'olanda che sono curioso di vedere cosa mi mandano perché voglio vedere più che altro ne pente soprattutto la dark secret che è una pianta che adoro è simile alla bloody mary però alla foglia un po più scura che la trappola molto più nera della bloody meri vediamo la taglia più che altro bene se avete qualche domanda ragazzi non sono qua tanto faccio un cin che è venerdì sera ragazzi alla grande ora ordino la pizza poi poi bo relax allora l'aggiornamento che mi state chiedendo di queste bromelie lo farò io penso domenica la sa ho già fatto le foto devo chiaramente metterle dentro andare a ritirare le piante dall'olanda io penso che domenica a mezzogiorno potrebbe esserci questo aggiornamento però lo deciderò proprio in mattinata e così magari fate gli ordini riesco già a spedirli i primi giorni della prossima perché non vorrei avvicinarmi troppo al natale anche se secondo me bartolini sta facendo un ottimo lavoro con le consegne perché vedo che nonostante tutti i carichi del black friday è consegnato piuttosto velocemente ecco poi per i nuovi clienti volevo dire quando ogni tanto vedete che la spedizione è scritto arriva la media sita è stata spedita ma non vedete un movimento nel track di bartolini ma vedete solo dati trasmessi a brt significa che ho fatto la vostra etichetta di spedizione solo quando vedrete che ci sarà un spostamento del track allora vuol dire che quella sera consegnato il pacco il pacco però potrebbe essere anche il giorno dopo alla notifica che il pacco è stato spedito allora e sì allora io sto adesso che ci sono le giornate fredde sto comunque caricando delle foto che avevo fatto quest'estate o anche un mese fa e niente praticamente ho aggiunto delle piante che che ho selezionato quest'anno quindi le trovate dentro la novità non disponibili però non fateci caso è il sito che fa tutto in automatico perché un prodotto un prodotto un articolo una pianta nuova però non è disponibile alcune si altre no comunque sono tipo le selezioni mie personali quella mario una pianta per vaso però intanto l'ho caricata nel sito per averla visibile ecco anche per salvarle foto perché quando mi metto ne faccio anche 400 foto devo caricarle il bulldog bellissimo allora il bulldog praticamente una pianta di aldo parise mitico nata da seme che praticamente è l'incrocio tra il cefalotus di piante esotiche marsure e il big boy incrociandole è nato questo bulldog che secondo me è molto vigoroso molto bello e però come dicevo ho cominciato quest'anno un po ad ingrandire la sezione cefalotus a lasciare anche una spazio della serra per i cefalotus perché tra piante diciamo che un po troppe saraceni ecco quindi metà serra per le saraceni e quindi le altre a volte un po restano indietro quindi preparatevi anche chi adora le saraceni perché tra poco arriva il voto quindi partiamo alla vigilia circa vi farò gli auguri faremo un aperitivo e subito dopo non andrà in cresce il sito perché l'ho ripotenziato vogliamo gioco più e ci saranno già delle belle saraceni ok il massimo che riesco a fare in questi giorni perché tra spedizione altro magari il tempo un po restivo poi volevo ricordarvi niente che anche perché si è connesso dopo che nel sito o la sezione mi sembra idee regalo dove dentro trovate dei gadget omaggio che sono le figurine che le ho fatte di stampare stanno arrivando un po una alla volta vedete è arrivata dall'intonia e l'utricularia quelle che avevo fatto una volta i calendari e quindi sono un po di gadget che potete scegliere gratuitamente anche più pezzi e mettere dentro al vostro ordine e pinguicola ragazzi basta ho chiuso no adesso ci sarà diciamo mi arriverà la tina e la veser ma tutte cose olandesi che andrò a prendere domani cioè piante belle in forma che anche se volete fare un regalo avete una pianta bella strutturata perfetta da regalare delle nepenthes nepenthes piccole e poi domani sorpresa voglio vedere cos'altro è arrivato e basta poi l'aggiornamento chiaramente d'inverno non aggiorna molto prevalentemente serracenie perché poi si riparte con calma verso marzo aprile verso tutto a maggio dove c'è l'apice con le dionei con tutte le nuove e penthes di borneo di nuovo quindi ora col freddo tratto veramente piante che resistono un po di più alle spedizioni a parte questo proprio piccolo piccolo medio piccolo ordine di natale che ho fatto in olanda e basta ragazzi non lo maggio più niente basta avete fatto i buoni perché sto leggendo i vostri commenti di omaggi non fate anche troppo quest'anno anzi se qualche pianta surprise sarà stupenda mandatemi un pezzo indietro perché secondo me il prossimo anno ne vedremo di belle ciao raffaele non mi dimentico stai tranquillo è che hai deciso che ti spedisca dopo il 6 gennaio allora sto seguendo e chiudendo tutti gli ordini precedenti bene ragazzi abbiamo chiacchierato anche troppo allora io vi saluto con le super bromelie ok con le tillanzie ecco queste si chiamano ogni volta io leggevo sempre neo le regia invece è neo re gelia neo re gelia che ce ne sono tantissime colori diversi rosso fuoco variegate questa bellissima la loro ok questo diciamo è il primo ordine ragazzi però se vi piacciono e secondo me vi piaceranno perché sono proprio gestibilissime proseguiamo prendo anche nuove varietà magari un prezzo leggermente inferiore perché chiaro è stato il primo ordine un po di prova non ho appesantito il budget ok quindi vi saluto vi auguro un gran venerdì ragazzi un bel weekend che forse ha messo anche sole non lo so non è che guardato avrei mi sa che sto a casa questa settimana ci grazie a tutti ciao ragazzi buona serata a tutti grazie per avermi seguito un'altra serata qui e niente alla prossima ciao ragazzi ciao 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 luca ciao giulia ciao 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 siete troppi troppi